c'è dentro un sasso ha messo un sasso dentro c'è dentro un sasso, c'è dentro un sasso devi venire in giù col dietro non è l'unico, i miei lo sanno 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 devi dividarla, devi scappare giù poi una volta che si viene in frattaccio non viene con le cordine oh, forte non è l'unico, i miei lo sanno